ragazzi proviamo a tornare in acqua dopo quattro mesi delirio ho perso qualsiasi tipo di automatismo nella preparazione della sacca un botto di roba questa nuova vestizione dopo quattro mesi ha leggerissima pressione addominale che non mi spiego ma che bello raga fresco ma bello grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bello 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 tanto 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 da recuperare sono arrivato a salutare la madonnina wow ciao ciao ciao